ma non è che giallo hanno pochi e musica parla parla ma torniamo a mettere i commenti ma non è che mi ricopierà se stai facciando i commenti guarda quanto è cagato questa cosa guarda quanto è cagato salve ragazzi c'è anche Agostino ragazzi voi non lo vedete è questo qua lo vedete eccolo là c'è pure Agostino è mio ex marito dopo facciamo pure l'ultimate team non vi preoccupate sì Agostino ragazzi no ma è per farvi vedere che guardate un po' l'estate no guardate 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 allora Napoli tiri 13 chi non ha fatto 7 possesso pallo guardate chi non ha detto assai contrasti non ha fatto 14 sapete che è contrasto quando gli ha tentato l'impostazione video contrasto e luminosità è stessa cosa poi falli abbiamo fatto 3 2 una volta cacciate anche noi 3 precisione precisione diri situazione perché non vengono la volta che non metto precisione passaggi noi siamo andati situazione perché passiamo solo eh eh ma con il risultato ragazzi non ci fate il bocchino ok per favore non ci fate il bocchino ah allora stiamo giocando a due ok io e Agostino tutti e due in la stessa squadra contro i buchinari avversari va bene Carolina ma il tuo fratello è quello dietro di voi ricercate un avversario con una squadra con numero di stelle e divisione simbolo ma è super male ah 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 ciccio ciccio ok siamo pronti un po' di concentrazione ragazzi non mi distraiate perché sennò mi arrabbi voglio un tifo nella chat dovete fare il tifo allora adesso facciamo il hashtag aspi hashtag ah 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 oh coronavirus sono giro blu è 하 beer va bene e questa è un gol subito ah 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 ma sicuri이션ri a me quei consti eh ragazzi guardate apparlando maley questa è una partita oh specialmente oh Austi mi piacere però, Austi è buona Austi però, ma che si fa? Ui, c'ha già pensato sempre, c'ha già pensato Che passaggio filtroso, mamma mia, Agostino l'insole la porta Corre, corre Agostino, tira E Austi, chi ti ha in piedi, Austi Che spazio mi ha passato a farmi, marronna Mi ha rendito conto Chi non va a passare a me, Austi, andrò in questa situazione Ui, non becava, verso me, tira, gol, Austi Austi, guarda, ma si tenivano pochi corroni più lunghi, sapeva di farlo Va Austi, vai, andrò tu, cazzo tanto, Austi, Austi, va Austi, ma non puoi dire, Austi Austi, ma che spazio mi fa? Austi, però, no, vanno qui, vanno qui, vanno qui Prima di non perdere in live, cacca facciamo tanti kill e figure in merda Che veramente non si può, veramente non si può Oh, grande Austino, Austi Austi Matonna della matonna delle grazie, prego È fuori gioco, Austi, che spazio mi passa a fare che è fuori gioco Questo non lo capisce, niente Allora, ragazzi, intanto stiamo un po', stiamo noi sempre in attacco Passaggio filtroso per Austino Austino Niente, scusi, no, ho sbagliato io perché mi sono un po' distratto Sto guardando a un e a un tifoso come era fresco Allora, fai d'oliva Fai d'oliva Austi, prima che vado in vorigio Ma, 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 Austi Austi, c'è un po' di brighi per fare un gol Austi, che stanno bambolotto, Austi Ce la possiamo fare, Austino Vanno qui, vanno qui, vanno qui, vanno qui E poi io, vanno qui, vanno qui Vanno qui, vanno qui, che intercettamento Che intercettamento E che figure in merda, adesso Austi, vanno qui Ma che grande puttana, mamma, tu non ti dico cosa hai fatto Ma non c'è la dici, mamma, te va Ma, cacchita, ma, stai a mattratare, oh Ma, che so, c'è Ah, ma, beh, Austi Fannoci vedere un po' con me qua, ma, vai Un po' di passaggi filtrosi, io e te, Austi, vai Facciamoci vedere un po' la squadra Austi, questo non è niente Tira, Austi, tira, Austi Ma l'anime di chi te è morto, Kubara Stewart Ma l'anime di chi te è morto Austi, con qua Ado, io Goal! Goal, Austi, grande, Agostino Grande, mamma, mi Quanta potenza Voglio, voglio lo spam di goal Goal, tutti quanti a scrivere Goal, tutti quanti Mi voglio tutti quanti Allora, che è cominciato Come faccio? Come faccio? Sto a pazziare con il gioco che sticca Austi, Austi, facciamo lo giangelo Austi, rimonta per noi, dai Dai, Agostino Spezza le cosce a questo, Agostino Austi, a me è nato, tu, ah A toi Ti è piaciuto, Austi, Samper, dai No, a me che hai fatto, tu, mi è piaciuto, però Mi è piaciuto, però Mi è piaciuto, però, Austi A basso, padre Austi, fuori gioco, stunghi Volevo fare un pallonetto Però poi non è stato cosa Non fa niente È capitato È capitato Austi Ma che fai tutto a te, Austi? Mi spacciono i panni, oh Mamma mia, Austi, fuori gioco Ma fuori gioco prima, no, no Non sul mio passaggio, perché io il fuori gioco lo vedo troppo bene Che spazio è meglio? Oh! Maronna mia Mi sono squagliato un po' i funghi nella mutanda Adesso è nata qua Facciamo un po' i funghi Sbagliato, sbagliato Piappa Ma falla per chi? Perché è una cosa brutta di zittata E falla Chi spazziamo da tu qua? Insiste lui Insiste Insiste Paolo Eh Paolo, il cazzo che ha giocato È pure già pazzia con Paolo che è ancora Sa quanti parole c'era Paolo Madonna, corri sempre Corri Corri Sono io Austi 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 Austi, ho sbagliato Austi Potevo pure andare là Però Mi prendo un po' i funghi Ma C'è Austi 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 Gioca Gioca Austi Il pio. Austi Asti fifa sta facendo la fifa non la gara chi l'ha fatto tu sei due stili di costituzione capi? maronna mia maronna mia madonna madonna tanto non ce la sei maronna ce l'ha visto la palla dentro maronna ho visto la palla dentro mi sono cagato sotto ragazzi non vi preoccupate che questa è la rimonta per noi io mi porto a guadurare meno meno male che rimacchista a porta chi è su su? a sprint a mettere il culo che filtroso passaggio oddio ci pensa carolina crossa ecco che ha fatto carolina ora sono raffes che rollo mangi qua l'ultimo l'ultimo di guadurare bella così è tua tua di nuovo che brutto cross mamma mia stiamo giocando un po' male costino non mi piace costino devi fare la palla qui devi fare la fischiata ragazzi cosa ne pensate di questo primo tempo molto ma questo è buono aspetta questo cotugno va va guarda sta buona d'acca io mi trovo meglio ok bravo guarda come faccio bello sono i miei insegnamenti guarda ecco il spazio andiamo a Zonausti però siccome mi fai segnato è colpa tua no tira 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 non mi fai segnato non mi fai segnato ma non mi fai segnato mamma mia non mi fai segnato ora stiamo un po' con le palle nel ora ma chi stai scoperto in palla ti hanno proprio il culo l'anime di chi le è morti l'anime di chi le è morti mamma mia è tua non ti preoccupare vedi? ti piace questo passaggio? vediamo tutta una netta non mi fai mai fai forte il giochetto mio vedi 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 che carolina oh l'anime di chi è morto l'anime di chi è morto solo carolina questa la porta non ha segnato solo carolina lei è morta non ha segnato porca troia ragazzi mi dovete scusare un po' l'emozione di tanti diffusi che mi stanno guardando è normale ma che che cazzo di passaggio è questo? come cazzo è brutto sto passaggio oh mio dio austin è già facile austin no austin dirà no austin ma che c'è un po' l'emozione ma non ma non come sei come sei come sei come sei madonna mia madonna mia madonna mia voglio un hashtag goal madonna mia mamma mia che rimonte che rimonte lo disse pure francesco monte a cappacchì a cappacchì se tu è morto se tu è morto austin è morto ma mi amico mamma mia ti metti la palla austin mi puoi fare il pallino ti metti la pallina per cercare austin austin tu vengono io mi puoi guadurare oh Gesù Cristo mio santo padre padre grande austin grande austin è buttata la zampetta bella austin è falla un po' che ha fatto se zitta ma che ragazza mi metto in mano quello giallo s s se pensava austin da pass con calma austin non ti presa marone nosti bella grande agostino sotto i miei insegnamenti questo ragazzo guardate com'è forte si provo ma mi ricammi sui si provo si provo è a che ora tu oh no dopo matone la è mia è mia la passo ma Gesù Gesù è passato mannaggia mi ha toccato a chi è andato mi ha toccato devo fare una palla qui devo fare una palla qui chi sta andando a rete non so perché sono lì c'è cretino cretino mamma mia la fortezza che se mi faccio passare giù la fortità ma perché ti rende una chiave che è morta tanto per sapere non so mi ha toccato francesco come francesco come francesco che cazzo fai rovesciato dall'arietà che cazzo mi ha toccato che cazzo vai osti a noi osti ma tu caratterra perché caratterra ti rende che cazzo ti rende caratterra osti io non mi vuoi guarda che intercettazione fammi complimenti osti osti ti rende tirare là eh mamma mia osti 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 non è passato sto francesco non è passato la rua osti fammi capire perché non c'è capito non è buona mi inserivo dove mi inserivo Agostino dove è la mia potere grazie osti già sai osti già sai osti mamma mia oh mio dio porca troia ragazzi fumiamoci un poco di liquida banana non si può mamma mia incredibile ragazzi incredibile incredibile ragazzi mamma mia mamma mia quanti fai banana non è proprio qui osti 3-1 può ci assicurare una poca questa vittoria vincere niente osti abbiamo bisogno un poca 3-1 qua dove c'è la palla qui spiazzare qua non potremmo rischia osti per la nostra ma perché fai passaggi prima falleci tu uoh chi dà muoh ma giurico la giurico voglio sapere quanti tiri hanno fatto quanti tiri avete fatto muoh cacchina è morti quanti tiri avete fatto perché l'austino sbaglia l'austino lo devo rimproverare a ostino ma buo sei mamma a ostino a ruolo uoh vuoi fare una fuma cacchina è morta un po' più di violenza a ostino tu devi essere un po' più volento sei molto buono chi stanna non c'è ma io stanno mi оставbo vuole questo vuole non c'è una fuma non c'è ma non c'è a esti vostra no 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 Azzilare Non è mio Uttanna Uttanna E' un uomo Bustacca Azzilare E' un uomo E' un uomo E' un uomo Non ce la fanno come Sbagliate Non fa niente Ci può stare Mamma mia Che azione MADONNA MIA!!! E la voleva tutta l'ora mia Ah si? Ah si? Ah si? Sto tirando fuori Ario Come è finito? Come è finito? Come è finito? Noi chiediamo, come è finito? Tu fornisci la partita No, e ora chiamo anche Marco Ponte Vabbè ragazzi E' stata comunque una partita Come avete visto Ma che vuoi? Pareggio Anche se meritavamo la vittoria ragazzi Beh veramente la meritavamo Ehi, hai visto? Ti ti ha mangiato la reazione del papo? Metti la gamba in alto a destra In alto a destra? Perché il tuo abbonato Sembrano Lei ti Scusi Non lo avevo mai avuto Perché il tuo abbonato Dove non due Che cosa? Ma hai visto ililizazio su gente? Ma le ha girato, nulla Come lo fate? Come Intelligence? Non pausate Cosa c'è? Cosa c'è? Inizio. Si fa. Si fa. No, non è così. Un'estima cosa più diffusa! nooo guarda come mi salva guarda come mi salva guarda come mi salva io non mi salva ah non posso non ci capisco allora ragazzi dopo questa partita ma mi sento qui stendendo qui no stendendo qui andiamo qui andiamo qui andiamo 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 e e a e e e che 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 panica vai bene prenderò ma vai bene lungo Tomas Moumier... Chiede Mbappé... Neymar... Marco Veratti... Robi si è nevespiecchio! Ma chi ti ha dato alle gronche? Sto stupendo! Rival nazista... Ma stai a lavorare alle gronche Neymar... Neymar... Mbappé... Chi è neymara? Allan... Vendon... ...sukac... Mato! 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 Uleva te roba... Ma se da questi buchini del re... Ma basta partire... 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 Ma basta... Tutto mazio... Ma basta partire... Insigne... Arkadiusz... Milik... Ma che tirini... Eee... C'è... 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 Ma c'è... N non c'è un bruco e la facciamo il numero uno da noi no? no 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 per tutta la porta andiamo poi quindi ora c'è l'arma pezza? vai che ce l'ha fatto? non c'è l'arma pezza non c'è l'arma pezza non c'è l'arma pezza non c'è l'arma pezza è l'arma pezza ah ehi che socca mamma mia che socca che socca? che socca? che l'ha fatto? che l'ha fatto? che l'ha fatto? austi! stu guamba mi piace sei pronto austi? non perdere il pallone non perdere nemmeno la pazienza non muore non perdere nemmeno la pazienza ma chi è l'ha fatto? ma chi è l'ha fatto? chi è l'ha fatto? ma chi è l'ha fatto? ma chi è l'ha fatto? 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 non c'è l'ha fatto? non c'è l'ha fatto? ok oh porca troia bebo non c'è l'ha fatto? c'è l'ha fatto? non c'è l'ha fatto? oh guardate ora poi c'è il suo più passa questo chi è l'ha fatto? io ho sbagliato un passaggio ma devi andare un po' a due sì eh no 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 chiediamo ho detto che no sta orando a tutti mi bacia questo bello bucate noi ti è piaciuto a te? almeno ci sbagliate a te con un coppia no 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 ai 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 NOOOOO NO 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 GG bro GG bro GG bro eh ah si, prima cosa buona che stiamo a partire la tua volta pigliere palla pigliere ma tu, ma tu ma no NOOOOO AIEEEE porca troia guarda qua guarda qua guarda qua Austi, ecco un po', oh, ecco tu No, Austi, ma mi sorridi un po' Ma mi sorridi un po', Austi, che ti pizzo Grande Agostino, così ti voglio, bella accecante Austi Austi, ti voglio accecante Austi, no, no, no Però tu sei un po' credito però, eh Ragazzi, stavamo scherzando fino ad ora Ora facciamo la rimonta Sei pronto, Austi? Guardate, io qua Austi, facciamo sapere che la tattica che ci siamo studiata a ieri Che stai Con gamba, Austi, con gamba Stop dalla palla, con gamba Oh, allora, tappo Con gamba, Austi Stavamo perdendo rezzerro, Austi Curse 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 Che succede Ma porca troia Ma c'è la faccina, più o meno No, 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 no C'è la faccina Se è la faccina Aí più che notte Perché è così? Luiρό they're in grida Ehi taci zio non hai da me Tira se Maronna Oddio stiamo aiutando troppo male a me di Austin eh Poi siamo riscaldati Uè 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 Ponga Sicuramente non passi prima Austin non è qua Uè 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 Ah si Ah Sorry 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 eh ho gioco di tua fama Due verso tappare zio Sorry am sorry a me sorry gamba I'm sorry sgamba gol, eh, gol, gol a mamma cura sempre, hausti, cura fatta vero, ah, muori bene, ah, un'altra porca hausti 3-1 in meno, hausti, hausti 3-1 in meno, hausti ha giustato mai giocato troppo una merda, non mezzo sul gioco cinese, ma sta scendendo a me eh, buona, pia di pollo a mamma tutti, eh, vabbè ha giusto un colato di, eh, non si capisce ma perché, chi sembrava che era l'albitro? eh, buona, fu un bucretino, lo fa, io amo questo, un bucretino, lo fa ma perché andremo con i difensori e te? ah, 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 ah eh, perché, austi, capi, vedi fai qualcosa, tu sei un tecnico in questa situazione, c'è? vedi fanno quel problema, metti, usare le hack, i seat fai qualcosa, capi, metti, non stai, eh, bravo, così, eh, che fai a fine siamo sul difensore stiamo sul bene 19.8 per Napoli Ambasic guarda qua, guarda qua, guarda qua guarda qua, guarda qua guarda qua, guarda qua guarda qua, guarda qua dobbiamo essere un po' più squadra guarda qua, guarda qua 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 allora ragazzi, il primo tempo è andato così il secondo andrà peggio, non vi preoccupate guarda qua guarda qua, guarda qua guarda qua, guarda qua aspettate di bere faccio un altro e non mi gioco grazie per le donazioni siamo pronti? guarda qua, guarda qua guarda qua, guarda qua guarda qua guarda qua dobbiamo essere più decisivi continui, capito? allora, guarda qua, ho studiato la stufa non ho studiato la stufa vuol dire che non mi sono più stufata ok? e vabbè guarda qua faccio un po' di tempo guarda qua 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 ragazzi non vi preoccupate la vostra Carolina vi sorprenderà noi in questa partita meno un'altra siamo pronti? un uomo in meno eh chi è? vai a fare la roba eh più offensiva hai capito? ma chi è? che può fare? ooooh ma chi è? Che cazzo, che cazzo è passato? Ma che è? Che cazzo è passato? Che cazzo è passato? Che ha fatto? Che cazzo è passato? Ci sta facendo tutto quanto? Ci sta facendo tutto quanto? E chi è morto? Purtroppo io c'è Un zampino Adesso Adesso si corre Che cazzo è passato? Cazzo è passato Ehi, io cazzo è passato Io cazzo è passato Ma io posso mettere la presa Madonna Oggi Oggi Io ho tornato la rete Oh mamma, mamma Ah Ah, rai rai rai! Ah, rai rai rai! Ehi! Iii! Iradra bukki! Madradu ayu madradu! oh no oh oh my god oh my god oh my god oh my god no 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 non so ah 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 madonna mia ti sembra una zonca ti sembra una zonca ah 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 good 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 what the fuck ah 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 oh my god ah che stai pensando? chassi casa tua cazza oh my god oh no a che cazza c'era che stai facendo? no ma malabra apriè oh my god no come arriva il tuo bucchio? come arriva il tuo bucchio? un gol un gol un gol il tuo bucchio vieni ragazzi si fa una difesa il tuo bucchio ah ma guarda che cazza fa i suoi che stai facendo tutti che stai facendo ma no olè 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 ma non mi che è morto tu sei che cazza tu cazza 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 che stai ma questo non è buono che cazza questo non è buono ma ho percorso il mio che ce cazza? no no ma mi dàimo ma non mi dà me un moment ok Non lo so, non lo so 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 Ma non lo so Come si dice il mondo in inglese? Il mondo Il mondo in inglese Che cazzo ti ha fatto? Nooo Non lo so Ehhh Si è remontata Ehhh, è remontata? Ehhh, è sì No È remontata o è mutandina? Pfff Allora, dove andai? Oh my god Oh my god Oh my god Agostin Benyams, Agostin no Piace Non mi sta a espaccio mio A la mucca qui da mucca Ah 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 Ok, 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 no, esco Oggi, bro, che stanno in un fotito proprio aperto Peggi ci ciò lì Ah, mi dispiace, bro Bro, me dispiace Bro, te ne hai sempre visto a bucchino di palla Ma com'è possibile? Oh, 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 oh Oh, oh ILCL, GR�U Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, tu, 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 tu MADDO! UAH! Capriola Circus 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 No 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 UAH! 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 Ma tu vieno proprio a fudillo un gancho Non credo che sei in merda Sto scemo Porca troia ragazzi No 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 OOOOOOO Oh my god No 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 eh no Vai giù ma chi sta parlando su cosa però eh E' finissimo No 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 Qua giù però no Veramente non me l'aspettavo eh Ragazzi mi serve un po' di carica Carica 101 102 per i tv Veramente Che schifo ragazzi Perdere 3-0 così non è possibile Non puoi vincere se con me hai fatto pareggio Io stavo da qui Piacere quale pareggio? Paolo ti ha discusso il tuo culo Piacere Paolo io Ci fanno tutto Aspettare Paolo se non vincere una partita Si non vincere una partita Guardate che culo Guardate che culo Guardate 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 Che shock ragazzi Che shock Mamma mia No sono lì E' patuto E' patuto E' patuto Guarda che sta vinto Guardate 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 E' patuto Ma dovevo andare Ti amo Da noi va bene Balliamo Ma chi stai a finire Ma che re Fui sempre Fui sempre Sapevi Sapevi Bene potete Oh che hai fatto? Hai capito la balla qui? Ma tu fraturo Qua zia Hai capito? Maronna mia Ammi Qua Allora hai Seic 2008 Questo è un unclear E' una sia Questa è unנים łow Questa è una 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 ragazzi questa qua la possiamo vincere sono sicuro buona così cazzo d'angolo ragazzi il cazzo è d'angolo ah si chi re chi li hanno tirato fuori aro guardate vant'angolo vant'angolo putes pute utala utala pute pute utala pute sbagliato non so bucchino sbagliato Oh, marrona Se ne viene poco Si metà i cavallugni Ah no, stiamo occupando Stiamo a tornare La troia, porca E c'è fatto un buchino Due faci, facette No, vai giù però Come siamo sfruttati ragazzi Come siamo sfruttati ragazzi Come siamo sfruttati E che spazio Non so, non so, non so Non so, non so Non so, non so oh gole chapa what does to fradro god ma che c'è ma che c'è ma che ma che c'è ma che c'è ma che c'è ma ma che c'è ma che c'è ma che c'è ma che c'è come si me no far come si me no ma ce c'è ma che c'è ma alla prima di andare a strama gole chapa vai! ti scatta la palla in questa porta la mia amica è morta che roba? che ne so? vabbè vedi sempre i sessi ci mancava che andava fuori giocando quella cosa per lo sanzo non lo sanzo ha fatto di un bello passaggio non è stato apprezzato è un gruppo di testa fuori perché non ci fanno questo ma come cazzo mi ha pazzito ma i tiri nostri sono niente magari non vale niente i tiri nostri beh beh non lo so non lo so questi tiri fanno schifo ma ma no eh sì buona eh sì hanno sempre l'ora questa spazio lì ma lì sì poi fanno contropietto e hanno segnalato che è lei che è lei che è lei che è lei vabbè 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 chi è morto chi è morto chi è morto eh non lo so non lo so guarda i tiri e i tiri vanno sempre in caccia per le tiri vanno quale tu che è morta maronna santa eh è sbagliato però non lo so non lo so e razzurto cazzo stanno i palombo non so ahè che cacato non vale perché sta a maggiungo fuori casa se tu credi ah è una passata killata ma credo madonna chi dà chi dà chi dà tu spezza e caccia me ne f***e da la f***e mamma ma chi dà muro rosso all'arangione 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 ma non è niente filmate a me ehi sta città è una paura ma non so poi io purtroppo è nera è nera proprio la prima live su fifa hanno fatto schifo veramente meno che non rimontiamo 5 a 4 caccia secondo me non è il gol questo non è il rigore invece che fa la giaccia non è il gol ah no chi va qui non è passato perché è così è così ma che è rai, no, vai giù ma rai, ma rai ma rai ma rai ma ronassi, ci ha panno a ci smai già chiesto porca troia a 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 che schifo è una vergogna veramente una vergogna ma non sto giocando da solo, stiamo guardando da una squadra, non sto guardando solo io a 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 ora è finita ragazzi da te ma io sento che noi non siamo troppo meglio prendere una squadra un po' più forte un po' di 4-0 5-0 5-0 come ti lo non non ti mi sono solo molto in l'anziare tu non mi ti mi sto solo a e 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 scusa ma tutta cosa ha sbagliato e complimenti lei è veramente un grande difensore chi è? e 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 a e 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 meno e e we eh, passano via come sta parlando che mi ha segnato? uai, uai che passaggio mi hai fatto, ma come mi hai visto? sei proprio un ladrungolo ma perché hai festi di remerda quando hai già caricato? appunti della nuvola ha già passato... nua via porca troia, porca troia poi ci stiamo mangiando certi gol esagerati però eh a noi ci manca l'atto decisivo e che è la cosa che non c'è ma qua l'ho già la mucca a chi è morta eh, vai giù purtroppo eh fuori, sotto la porta siamo un po' citrulliti chi stai giocando di noi? come stai giocando di noi? come stai giocando di noi? non c'è giocando di noi ecco, hai giocando di noi? stai giocando di noi? che stai giocando di noi? ma non è tanto giù con lui il bai se non è niente abbascia ultimi con calma ultimi oh oh aggiungo la passata forza ma tu stai vedo subito mi dico che ti ricorso ultimi però mi fa passare qua non mi dico non mi dico va giù io mi fa passare qua non mi dico qui 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 ma chi cazzo l'ho persa che pandemia ma anche il mio fergo la squadra che non è vero è stato è stato è stato è stato è stato questo punto mi sembra bello bello facilmente va ma questi va a dirti ma osti ti vuoi tirare la banana osti ti vuoi bananopera mamma mia ti vuoi tirare la banana hai già avuto il diritto ti vuoi tirare la bananaopera osti non ti vuoi tirare la bananaopera abba no ma porca troia ma basta a me no? alti e ist un grande alti ma che difensore che sei complimenti a noi eh davvero veramente qui stanno all'ora poi si piazza poi si piazza poi si piazza e poi ok si fai un po' di palleggi ma hai già scartato tutto quanto eeeh oh ma alti ma mi ha buttato la bassa patria stai scostumato a fare stai scostumato a fare stai scostumato a fare alla bassa alti alti eh scusa fuori gioco alti maronna mia sera mai ma tosse ormai ora credi no credi io mi piace io mi piace tutto quello che ha detto ehii che spazio c'è c'è un po'! Ehi Abbo! Questa è? Questa è? Questa è? Questa è? Ora non la passa, se non la passa più! Ehi Abbo! Ehi Abbo! Ehi Abbo! Ah! Vole fu giochetta, Austi! Tu giù le fu giochetta, Austi! Ma è venuto! Ma è venuto, si bello quando ruori, ma vai! Ma no Austi si passa perché la palla è là, wei! Austi! Austi ma no che combinato Austi! Sta la gana tutta la spazio, ci metti la morta! So buchino! Non puoi parlare a chi stia, Austi! Ehi facciamo la tua gola, ehi! Ehi facciamo la tua gialla, oi non facciamo la tua gialla! Ehi facciamo la tua gialla! Ehi facciamo la tua gialla! Ma no Dio! Ehi Abbo! 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 Perché faccio questo? Perché faccio schifo? Ehi abbo! 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 se li contro la bandiera e ora ci sono passati 15-15, non ti fa emozionare hai capito? non ti capito se capito andiamo a portare a vederlo qua stiamo facendo un fallo qui facendo in mano a mezzo con calma con calma è tua di nuovo con calma rigore rigore no austin il video del tuo austin austin complimenti a Agostino ben rigore gol per noi bocadì è legato la banana non ti dici il tuo austin è scaricato l'aviso ci voleva ragazzi che cazzo se no che si fa 2-0 per noi siamo veramente meritati meritati un 2-0 meritato e ora che ci siamo scarfati ti è piaciuto austin si maronna mamma mia che giocate che giocate austin mi scassi in mano tutti mamma mia che fa che resti utile utilice quanta centesimi l'aviso vedi guarda il non c'è capo non c'è capo c'è poi non c'è passare a chi non c'è passare a quale non c'è passare a quale qualche spazio mi è passato buono vieni un piacere una vittoria ci stava ragazzi dopo un pareggio ma poi stiamo con l'Apoli un'altra vittoria un'altra vittoria un'altra vittoria un'altra vittoria un'altra vittoria fai i palleggi allora fai i palleggi puoi chiedere uole questo ragazzi è un'altra vittoria ok chi è sti cazzo ah pasca 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 mamma mia mamma mia ma che è ma che è la proaggine proprio quando uno è pro player pro player capito mamma mia un po' d'acqua perché correndo sempre un 3 a 0 schiattato ragazzi ma che è un 4 a 0 schiattato fai i palleggi fai i palleggi fai i palleggi fai i palleggi ehi ci passa mamma mia quando la proaggine tutto insieme ui azi è passazza va ma l'aspettava facciamo un 4 a 0 ce la facciamo fare un 4 no facciamo un 3 a 0 va bene un 3 a 0 un 3 a 0 è fatta bene era la squadra che non andava bene ragazzi eh ho tu è buono la potenza faccio un po' di tiri quanta potenza no non sto starlecciando poi capito se qua a tiri la camota R1 quelli in alto a sinistra puoi dire al giro con L2 in alto a sinistra si dici potenza faccio capito dai ragazzi proviamoci ragazzi ma che è la cabana chi ti è buono? bel c'ho ma che aveva lanciato un bel c'è ma te ne ricorda? adesso ora mi fai scurre un po' c'è anche questo fanno poco boffone io credo io io quando non vuoi vuoi sapere quando non vuoi sapere chi ti è buono quando non vuoi sapere quando non vuoi sapere tu sei tu tornata perché esce sembi esce io guarda guarda ah 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 non baciare questa grande affezza in sabato mi hanno donato questo gol no ragazzi non posso vedere ora in partita voglio non posso leggere nemmeno i commenti perché se sconcicata che cosa? ah just meet un euro grazie mille just meet meet un euro lo che batte meet meet questo è per te meet 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 questo è per te meet 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 porca troia porca troia grazie mille un euro è veramente importante per me grazie mille faccio la spesa a Ciruzzo faccio mangiare dobbiamo fare i regali per Natale la magra di la magra di la magra di la magra di No. Olé. Olé. all'lè avvicina la palletta qui, perché è tutto andata all'ultima, 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 all'ultima! Ah, ok Porca troia Non mi fai Ma che ti di merda? Che ti di merda? Mi stai ballando E' un'altra donazione Non vedo ragazzi Fammi sapere all'ostino che non vedo tanto Frank Cook Grazie mille Frank Cook 2,29€ Grazie mille Grazie veramente di cuore Si si Oh porca troia Oh porca troia Oh porca troia Ehehehe Ehehehe E' una scema E' una scema E' una cretina Ogni gol Ogni gol 5 euro di donazione Facciamo? Ogni gol 5 euro di donazione Ogni gol 5 euro di donazione Però se fosse così Allora non c'è più come neve Non c'è più come neve Non c'è più come neve Bella così Austino Austino L'ho già passato Ah è un po' riuscito Austino Non ci capisci Non ci capisci Perché tu non balli Austino Devi parlare E' una rete pedava Allora chiediamo Chiediamo Ed ecco questo Perciò che tengo a partire Maledita mua Sto creatino A piacera doì Oh 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 C'è più vicino Ma in al caso l'erba sta nel bambino Oh In al caso l'erba sta nel bambino Oh C'è creative Oh Andre libertà Eh Oh Now E tu sei morto? con qua TIRSA ti è morto? ti è morto? alta, alta, alta alta, alta alta, alta, alta Austi con calma ce la fai Austi? tornare? oh si passa la palla passa la palla, la palla nonno Andrea con calma nonno 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 pensi a mamma, ti da benzi eh, pensi a che ci me lo dà ma no teni il col ma divenza di benzi ma divenza di benzi ma divenza di benzi ti ne fa la autizia ma divenza di benzi ma divenza di benzi vuoi gestire o vuoi segnalare? no, vuoi segnalare austi vuoi segnalare austi vuoi segnalare austi 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 ok austi hai capito? non c'è con me capito la situazione no? vedete tu vado 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 austi 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 ahhh 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 non c'è non c'è perché non c'è non c'è di prima c'è di dopo c'è di c'è di c'è di c'è di che fa? mi ha fatto passare la mano in mezzica oggi non c'è nooo non mollare mai chi ti è morto lo sai ragazzi è capitato cagli 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 ma che non so ce l'ha fatto così no ragazzi vai ci riprenderemo quello che è nostro comorra c'è che dici? tranquila ti piace ti piace ti piace ti piace ti piace ma io tira con la potenza, con la potenza, con la potenza tira con la potenza, ho fatto un pippo alla gola che schifo che schifo è stato fallato il gol e chi è morto è semplice di riesce loro, quello a chi non ce l'aveva una paura chi ti è morto? ma è bella, ha già fatto la mia morta qui andò io ah non è vero, ma chi è che stai andando qui? stai sull'uoto e ho fornito Siamo cretini Perché? Wow, che combina? Wow, che combina? Wow, che combina? Wow, si tiene un palazzo Tu non ti città Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Di pro, di pro Siamo proprio noi Siamo proprio noi Eh ragazzi Auti, facciamo un altro per stare più tranquilli Facciamo un altro per stare più tranquilli Bello Agostino, grandissimo Ma rob Ma rob, auti Auti Ma che stai a fare, auti Stai a fare, stai a coppia con i palazzi Auti, non fai scivolato così Auti, mi rimasto tutto in coppia E questo è un po' lato Perché voi Non mi rimasti Molto bravo Questo giocatore in difesa Ma rob Ma io mi sono andata Non mi rimasti Non ho capito Allora Ma te neanche Ma è buono Perché qua In pool Ma che stai a fare Ma altrimenti Mi riusciano a segnare Tu bastard Oh, tu Non ti senti Ma che rob Che cosa No, io Che cosa C'era Allora ti passa la roba vabbè ma chi? bucacchi debbi ma chi si trova così ora poi la palla ehi ehi passa un po' fugga un po' fugga guardate davanti davanti stiamo si si mantiene la palla ahhh 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 ho buttato un po' le palle in avanti ahhh vai ecce vabbè ehi vabbè 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 Aris, ti bastarda ti bocchino tocca Alty porca la trota Alty qui sta con lei Maran And Let's go Questa, questa Voi parla Adesso c'è la palla Non c'è la palla Ma qui sta facendo Ha riuscito la palla Ti dobbiamo allora è il gioco vabbè mamma ti dà sangere ti staggini vabbè mamma ti a tutti la lettera dell'aventura grazie a tutti E' un po' della mamma, non so tutta la famiglia Ossia, c'è nessuno, manca dopo la nascita ...non capito... E' un giro che non è fatta, non è mai finito ...non è mai finito E' un giro, bastardo ora secondo voi ora secondo voi secondo voi secondo voi è giusto come cosa? non è giusto ragazzi non va bene, è pronto ma è giusto come cosa? ma è giusto come cosa? andiamo bene, mettiamo questo nella lista nera dove sta pure Fortnite andiamo bene aspetta, auto in aspetta, auto in aspetta, auto in aspetta, ma che... Aspetta, facetemi mettere tutto come stai venire, questo qua stava un poco a poco, questo stava un poco a poco più grande, poco a poco così, questo stava un poco a poco più grande, lei pensa così, no, più grande nge, perché hai muerto, mi hai muerto, ok, è lì, hai muerto, aspettate due secondi, mi non ho aspettato, allora, faccio la tua, aspettate, attendete ragazza, attendete. Grazie. Ah, voi avete visto la partita? Ci sono capitate cose proprio esagerate. Ah, benissimo. Ci rifaremo, non è che amore. Ci rifaremo, sì, sì. Ci rifaremo. Ci rifaremo sicuramente. Allora, che vogliamo fare? Che facciamo? La cacca? Indovina la cacca, no? Non lo so, voglio essere indeciso, che facciamo? Creative Destruction? Che fanno? Ok, ma vengo su creative, aspettate, oi, 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 o oo, quand'è cando ignito? Quando ne c'è un credo che sta fu un rap la frega ci viene bambolo ma su creativa venita su creativa bambolo devi fare il salto di qualità carmine ti scarichi lì si è bello proprio e spizio pari c'era come sembra diventato pro player lango ormai vinci tutti i partiti se siamo bamboli a tutti i giorni inizio c'è l'inventivo negativo nella prossima qualità non mi fa proprio dicono fortnite perché lo tiene forte attoresi installato ancora a me fa una barca tuttora da due nacque che fanno parchi anche fa ma la zona può cadere lo so ci che fanno bar no park e non meno bar che vuoi fare lo riporterò fino ai ragazzi e bambini supporta e chiamano scuola il mio supporto se voliamo pari a parte sul lim se vogliamo quittare forte c'è scuola ma tu che si dice non stavo so che le sto decine i attenti ma che se fortnite non guasta ci fa solo un pochino nervosi ma non è vero ah fermino tu sei live si ah quindi la canzone si è sentita in live che la oh io capirai ah boh ora mai quando non mi muoviate un video ah allora ma io mi sento troppo incontro perché mi credo ah ci fanno male per cadere è che se affane aprì cica vengo a pane questo è un ballo ma nevoca forte niente tu si scema dai tu ne parla proprio lo schermo lo schermo che si vede lo schermo che si vede perché se lo schermo non si vede non si vede se non si vede poi inizio che ok chi mi invita chi mi invita chi mi invita mi mi hai io ma valutso qualcuno no no io ho fatto un po' ma come ti chiamo valuteri ce l'ha a me è stata una parco esco così invito anche se non fare bis amici e me guai giù o dare 2 mi sentite no io l'ho dicendo gli altri non lo so vi tratto non so se carmine mi viene mutato no non ti dai che mutate oh dio carmine mi viene mutato si si ti viene mutato no 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 frango usci un altro aiuto frango usci mi è piaciuto qualche bolletto era avuto carusiello frango grazie mille era avuto un corcellino ma che andava nei termini e che ne sa ci aspetta mette personalizzato la che non morimmo si carimmo frango uscire da una passi rimblam si subito ci arrivino di venti per il waterway fsg e misa che non rimane simulismo no che anche c'è ben chiede vecchi deve venire voglio perché l'improvviso le vasche armate e timide chi bambalotto deve venire ragazze che non vengono fatto anche dovremmo cercare di schiaffo lo parco già sette secondi che vindo non è la tua spettacola già la fortunata ce l'abbia fortuna studia di pesca ma ok nel mondo non è chiaro che basta no sono morto per cazzo hai visto una patch Carmina? no cosa succede da sta patch? non lo so mettono il nuovo ho detto double pump ah ho detto double pump è nato perchè poi l'hanno volto a muo mettere nato è che non fa sentire un poche mancanze ok ancora non fa pace che pensiero non riescono a schillerare di natale vabbè basta io mi voglio rilassare poco e vengo un po' fortuna 3.6 invitami Darillo ok mica mi giocare su tryhard darò su essere impegnato no 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 sto pronto aumentano i danni del pompa aumentano solo i danni del pompa e lo mettono in double pump dargli l'invito mi dico ma so se non mettono su double pump guarditi dargli l'hai visto pronto? no ma ne vede un po' hai guardato la con i polizzi quando sai ci voglio eh fanno pronto 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 chi è? ma metti gli spiriti pronti dai chi è? ma metti gli spiriti rilassare di però del c'è pronto quality allora gestisci la polvere a playstation voglio fin fa 19 già abbiamo giocato l'abbiamo pure torto la sensibilità non andava figa 19 3 scuola 6 quality 2 fartoni da l'abbiamo la stampa ti serve un pompa blu singolo mi serve a me ancora c'è più ti ho portato pure un'arba alla cosa a te ma questo si si è appinato l'abbiamo 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 che sfida l'abbiamo 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 non devi più luttare niente se le do queste cose ok questo qua mi serve bisogna avere colpa? mmm no mi serve solo una mitraglietta la mitraglietta è stata sul buttore del pino ah giusto giusto non mi serve era 18 non me ne sono accorto non me ne sono accorto questo è un secondo blu quality ma tu non cambiai scuola ah è vero mi ero scudato mi ero scudato comunque sto pronto mi sembra anche materiale però non va sto pronto pure facciamo facciamo 5.2.3 da fai da l'amme oh oh vediamo ancora che sia niente non ho materiale hai ancora da l'amme 5.2.3 ah è qua se ne si buodoro che cazzo è il tuo adesso si buodoro so più so buono blu materiale si è provando il tuo carmine si abbiamo fessi lo fai da voi chi sta sotto qua ma la stu io sto nel giardinetto giardinetto ah ok tu? sto banani di giardinetto voglio vengo subito devo così no no io non ci vede trappolo però la velocità le scuagliate proprio mi hai fatto male con la cecchina no ma a costruire sono andata proprio una pippa è normale tu non mi vieni a romperci che cazzo è uscito dal gioco mi è uscito dal gioco si è verificato proprio con la nazione di rete persa ma che ci faccio mi è uscito, sulla me è uscito si manda una partita che fa? no no è uscito dal gioco è uscito dal gioco è uscito dal gioco bravo Frenkush hai capito eh? quanto ti ha già da cecchinato Daryl? no eh dopo sei zompato a destra tu hai risparato con la bomba hai risparato così che c'è ora sei guardi? due sempre due due nel gioco una è uscito avuterà alto che merda aiaia aiaia Pianato dopo, usci qui e cosa? Deghi munizioni qua Se vieni nei municioni qua sopra Se ti vedi, se tu mi chiede, sempre munizioni Ah, buono, vete a scavare, trovo qualche cazzo di munizione Non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so Non so, non so, non so, non so, non so, non so Non so, non so, non so, non so Non so, non so, non so, non so Non so, non so, non so 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 a chi serve non c'è chi ne leggerà la bomba blu volta di scendere lì c'è no e due secondi ma ci perso tanto le m4 costo la risulta da quando ci metto a terra due secondi per me possiamo iniziare cazzo c'è e sto davanti al distributore io adesso bisogna spaccando arba wii No, 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 no Oh, no, 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 no Non mi lo so Come cazzo mi sta lagando Oh, 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 che fai? Sei bugato, sei bugato Aveva il vecchio roba oh ecco oh man, l'ai chiamato otto capitan, non c'è l'ai chiamato wow, l'ai chiamato hai chiamato, hai chiamato hai chiamato, hai chiamato come l'ho mi chiede di io farò cosa venga municione vabbè 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 i Vado a farmi robò Vado a farmi Vado a farmi Vado a farmi Quanta Quanta Tengo uno HP Uno Vado a farmi Vado a farmi Vado a farmi No ma Non ho mai avuto la scala Non so più veloce Ma è normale Non si può essere più Vado a farmi Vado a farmi No ma Vado a farmi Vado a farmi Vado a farmi Vado a farmi Sì 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 eh oh mario eh oh che fai a cittadino a me ma che voglio chissare a me, non so se c'è non ballato, non mi prendi, non mi prendi no oh 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 niente, ha un'altra sida, viste che boffa quality quality 13 hp frate io non avevo più, non avevo meno di 3, ne avevo 5 è un fumo adriano in mezzo ho visto Carmine ok questo è un fumo adriano vabbè l'ho chiuso, poi ci puoi andare a caccio sono bravi, adesso puoi andare a Carmine a capo no sto scherzando si fa dal M1 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 ooo, ci puoi andare acivare i giocatori i giocatori si fiumi si fiumi su 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 si su su bello poi non vedo chi mi ha scordato dietro col cecchino a 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 46 e ora c'è a che è? no vabbè eh no ma c'è bambolozzi c'è 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 m eh quelle di ne ho capito ah c'è l'api c'è infatti d' cel 피 c'è Eccolo qua Garmin, adesso io terro in testa Arno Perchè mi ha terrato in testa? Ah, ho terrato in testa, giusto? Vaglio finisco sempre un materiale, da figgino Semmo un altro euro, grazie mille, sem Sì, ma che combinato stasera? Come mai? Tutto steve però Ma che fumo in giusto? Ah, non stavo fumo Eh, via per lei Non è che vuoi darmi E guardi, vanno sempre a kill che rombo, cacchio, da vanno Eh, va buoniamo, aspetta a parecchie trapple, Deri No Guardi, ti ammazzo lo costo meno No, no, no Eh, la giacca è fatti Fatti di ciccia game Magari sti pombo fanno schifare a merda Quando i pombo vanno a generare Eh, domani dovrebbero risolvere Dovrebbero, eh Guardate, arrivi, vanno a te Guardi, guardi, guarda, 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 guarda non sono i bambini bambini non si svegli un bambino si fermeci un bambino adoro la carta ora si svegli una nuova vabbè vabbè fai che fai schiappone vabbè ora si è tutta vabbè vabbè dai è la mia non è che la rave non è che la forte niente quella bocca niente è una sgarita e guarda chi sa ma perché la ciappa ha la scuola di questo fuori non ah 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 dai material è 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 spaccando il palazzo rosso che andrà questo materiale al 0 maiamo chiesto poi vengono e mai intervengare però a differenza con le disini no vabbè guarda qui guarda qui il bambolotto raga guarda qui il bambolotto guarda qui il bambolotto guarda qui il bambolotto guarda qui il bambolotto aspetta prima che dà 5 quando viene poco e poi venghi allora aspetta beh vabbè 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 Mada di me Nooo, so covruda Pash Chiede che sei in altezza Che gli saldo in testa Eh, ci sei in altezza, che bene vera tu me lo capisce, non me Hai ovviamente, guardi E cos'č che fai, andai chiusi parato Tu muoviti la rete Eh, ah Al prossimo ti dà visto, guardi, sto dietro di te Bravo Io do made real Oh Ma che sto combinando? Andai chiamato un gol No 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 oh dai muovire il bai fa oh vada gilla ha fatto il bambolo ah 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 oh ah 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 . 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 mamma ma c'è la mia madre a scopo di facciare per una capitale non morirò non morirò per la patria è morto ma non ho materiale non ho materiale ma ho sparato un bomb ande la bomb si non sta a fare un altro non sta a fare un altro non ho Oh! Oh! One shot! Oh! 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 Oh, oh! 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 ma chi? non so bambolotto come te si oh ah si veramente la metti così no la macchina da me è no sul crudo non so lui lo che non so non so non so non so non so che ci non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno si dipende l'alternativo cerchio che sei classico cerchio perché non ci sono materiali danni non c'è nessuno non c'è nessuno ma che bato è quello che c'è sulle tasse ok poi c'è un'altra parte che mi scopriano c'è un bambolo zicca oh là ci stavano andando a prenderlo oh ma la cazzo ha fatto un po' qui uah mi fa costruire ma questa è la Mabash vediamo E' diventato un'altra casa centrale No 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 Vai, ma è la murilla tua con me Paolo, ma tu sei da parte a loro Io la gente quando c'è stata l'hanno vista Quanto ha chiesto, quanto ha chiesto E' bambolotto, e' bambolotto Calmi, non lo rischia perché vedi lo tuoi Che c***o Guarda Deryl Vai giù, muovereci Non muovereci, non muovereci, non muovereci Guardate Ci sono affidato, io non so chi No, non mi sento messo a nada No, io stavo entro, che c***o fanno? Non c***o a chi là Stavo entro qui Che è questo? Quali, ma non c***o Ma chi è che c***o? Ah, non c***o Qu'è qua 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 qua? Sì ehi 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 un'annanzia è nata la rete perde sempre a così ma ci fai cazzo mi ha giocato la ciappa di voi e poi vengo io ma ci fai così da che fa un bambotto uii che fai? che può fare? oh ma se fai ah mi si ripalca no buono soccorri da un bacio ma c'è una coppia? io ho capito bravo ma che pezzo? che mi ti ha fatto il trappo? beh non cazzo 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 c l'autile si rigenera ora dirigi ti faccio il generale guarda 47 un barolo è perché in pratica paluzzo da casa mi ha fatto rigenerano non è mica colpa a me sempre di loro in quella a me anzi uno si come faccio farlo allora Allora quindi si è cambiato da una e sti cosa, ok Oggi Camerano sei andato all'ufficio centrale Nell'ufficio, c***o, adesso subito l'ufficio Alla tutta, alla tutta la tavola e seggio Che bucciana è vero, non puoi saltare Ma chi è il mio sport? Questo è il secondo piano E piglia l'angolo Camerano sei capo di questo Hai fatto, hai fatto che mi faccio il polo che mi devo pulire lo scudo? Adesso, tu hai fatto? Questa è shepherd si stava Che d viewed lo scudo? Oh dai Questa è il video No, ma qui ti da fai a bustare? Ma questa è bostata di soldi No Potete dopo aver arrivato qui 10.000 dollari What meno tue il ladda? E' un po' una good Oh ti hotterflame quando cado io mi faccio il genere, non ti mi vede vabbè, 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 vabbè ma non mi arrivo tutti i suoi stizzi che ci sono quando c'è un'altra parte, tutti i brutali non è da volte Ma la c'è più di un altro No, fai il cuo per favore, vieni a capire senza... No! Ah, non è bella così Oh Malvata qui la fa! E' un'altra come a trarre E' un po' di te daerì, vinto io solo tu cazzo se senza madrano ma se fanno move facendo 16 38 volte ti ci sono che mi disposto a venire di colpito non mi ha detto che non va troppo grosso io oggi fossi io oggi ci si persi certi partiti in coppa ah, io diciamo vabbè, faremo un pochino eh, proprio ci si persi certi partiti oggi mamma mia, certi partiti non lo hai avuto cosa troppo per che io ne ho trovato ma io non ho bisogno non mi ha ricevuto non mi ha avuto ragazzi, perchè un'informazione sa adesso è stato però sotto Eh, prendi, ci sta Paolo, stream sniper Sopra sotto, dove sta? Camine sta al palazzo rosso sopra Tu, dove sei il balcone Oh, sto là Nowhere, nowhere Ci sei io Hai visto? Eh, prendi Ma no Ma no Poveri Tu ti faccio il per me, scopendo No, no Guardi, come hai fatto? Guardi, mi hai scato una scuola E' la fine fu un bambino Che? No Oh, è qua, qua, qua E sei zitto, tu? No Lo devo cidere a sto bambolo Ti avrò Ci dimmi bene, come è cidere da dietro? No 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 E' che il barbuchino alla fine Non lo stavi Non ho più materiale Quando è vero Quando è vero il dio dei bambalotti Ti avrò Ti avrò? 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 Eh, posso di generare? Ho due HP Ma perché le difenze ti avrò trappare, capito? Ti avrò trappare come Pablo Ti avrò? Ti avrò? Ti avrò? Ti avrò? Ti avrò? Io Webcast Ti avrò? Ti avrò? Ti avrò? Mi ha dato la vita Come hai seguito a subito? Oddio Oddio No 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 Vieni qua il bambolotto No Sì No Ma che lei perchè c'era di ricerciare? E' stato con la bomba? E' andata Si eh Eh sei tu però vicino qua Eh vieni ma tu Eccomi Chi è stato eh? Oh guarda sto bambolotto Un altro bambolotto andrà Cioè chissi chissi è stato annullo Dopo alcun gioco Che veramente è stato annullo Qualcun c'era Dai non puoi venire qua giù No scambio ne so credo abbasci Sto vedendo perchè c'è un'azione qua E guarda i secchi di trappolele come ci piacciono Ehi Sì No 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 Oh Non voglio i secchi trappole Mi sono sorto qua non vedete che sono morto Ma anche si bambolotto che vuoi No basta non voglio i secchi trappole Sono stato andato Siete sempre a sfuggire alle mie trappe Poi è stato vero, sperando di stare a su E' un po' per l'altro Era anche il Fabio Ha compito un'altra cosa No, perchè li faccio A me poi ricordo che sta Tutti insieme a quanto Oh, ci vorrò Maronna mia No, me lo vuoi intervenire? Maronna mia Grazie Allora, ragazzi, qui è Sì Però, Fabio L'unica cosa brutta di riggo solo È che Non si può giocare solo in In prima persona Per forza mette la modalità Ah, sì, lo so Sono pochi giocatori, però Dove sei carmine No, guardi, non c'è più Carmina rosso Serio? Serio, 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 serio Un po' dopo ho metto pure io Andiamo a questo, un pazziccio La modalità, no La maggio del genere No, io ho avuto 40 HP Tu hai da tre 3 da te Paolo, andiamo a fare un po' paolo Ah, non c'è per neanche poco Ah, sto a due Sono sempre là Sì, però D'acqua Io faccio un boost Ma che guarda su bambolotti guarda su bambolotti c'è trappola se trappola da cinesi ogni secondo l'età ho buttato tutto al torretto a posto mosi però non è scoperto ok va il primo se riesco a chiedere speriamo di sì si venerà ce l'ha magari a capo però non vuole chiesto e tu no già ci è molto chiamata così è più tardi sì l'ho detto troppo è così ma chi deve mettere scarsi si 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 ha parlato di che l'hai scattato lo c9-1 paolo paolo? paolo? ah paolo! oh chi è il bambolotti sii tafo bravo vai calma che lo avevo cercato di cambiare la basc ma chi lo ha? punti come è qui no mi ch tickli No, non lo so 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 Ma si può fare Non lo so Non lo so Non lo so è un colpo ma va ti sparo golpe e bomba c'è fatta la fine di costruire io voglio appena soffrire uno io ti per seguito carmi ma c'è buggato un buggato spara a Derry no 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 dai vina HP guarda nooo no oddio un bazzamoli Derry tu ne amo di Derry tu devi resistere Derry c'è un buggato non hai ciamice non sono un materiale posso prendere una bomba da una copala mamma mia che t'hai fatto mamma mia vabbè ti pari a casa siamo all'acqua, puoi sparare a casa, grazie a voi, sei il bambolotto proprio, dai il bambolotto mamma mia guarda, non ti dà paura di affrontarlo, venite qua, guarda mamma mia guarda, non ti dà paura, guarda, guarda, guarda guarda, 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 guard bambolotto da rin eh voglio voglio troppo bambolotto da rin la vi voglio uscire dalla long hop come fruttare la partita sto scendendo io eh voglio innovatore che faccio 5 la parata ah no mattia gamer grazie mille ma cheИ uscire a vive go ok look no però guardi che non fanno uno di uno sono un bambino Un bel, un bel, un bel Vabbè sta cacchino, cacchino, guarda, cacchino E mi c'è da cacchino, cacchino Ma c'è l'ora dentro, Carmine Non c'è se lo guardo Eh ma sto ho 9,5,7 di madre E mi c'è da cacchino Poi ho 35, non c'è da cacchino Ma no, non mi vedo come sparano La prossima volta, Ren Non c'è da cacchino Ho lasciato stare qua, le dì Eh ok, ha uno di vita Perciò me lo uccide Ma non, non Ti intubo mi sparano Ma non, non, non c'è C'è, c'è Lo! Fa un vicino Ma non training Ho passato Quanto lo! Mor искić di qualcuna C'è' la bombante Quanto lo guião? Noll Ahahahahah, ahahahahah Non ti so, non ti so... Ma c'è il mio! E' uno attento a Daryl! Daryl, haci... E' uno attento a me! Adesso a Daryl, haci un bamboletto! Daryl il bambolotto! Ma non vieni.. Ehm, ma che non mi modifichi questo cazzo! arrivando la cosa vero sulla modifica non modifica mi piace che ma minima cazzo dare il bambolotto fatto la ricetta però l'ha già fatto di angelo no abbastanza dare il ruolo del suicidio non è un grande gioco per l'amore c'è il bambolo 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 eh lo levi c***o ma non mi guarda ma non mi guarda non mi guarda, non mi guarda non mi guarda, non mi guarda oh no viene tutta l'arma a scarica ne capite mi attacchi 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 vabbè ragazzi lo stacco ho fatto 3 ore di live quindi stiamo a posto ok ragazzuoli vi auguro una dolce notte domite bene ciao ragazzi ragazzi un saluto ciao ragazzi buonanotte fermate ecco chi